Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo tornati qui con la carriera datore con la nostra inter, signori grazie per il supporto come al solito che state dando a questa serie, io ci tengo anche a ricordarvi che in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball, l'applicazione calcistica per me di riferimento, la migliore sul mondo del calcio quindi mi raccomando scaricatela perché è gratuita sia per iOS che per Android, primo link della descrizione oltre questo link molto importante trovate anche il link dello scorso video, se ve lo siete persi raga andatelo a recuperare perché c'è la doppia sfida epica contro il Barcellona da dentro fuori per la Champions League quindi magari andate a vedere come è andata a finire perché tra poco ne parleremo oggi tante partite di campionato ragazzi, vi vado a far subito lo spoiler quindi mi raccomando se ancora non avete visto l'episodio precedente correte adesso, abbiamo Turino, Spal, Roma e Fiorentina e nel prossimo avremo anche la finale di Coppa Italia così poi domenica ricominceremo la nuova stagione presto inizierà anche il contest per andare a vincere la maglietta, credete che pensavate che mi fossi dimenticato? no, non mi sono dimenticato ragazzi perché le scommesse vanno pagate ovviamente oltre a questo ragazzi nello scorso episodio purtroppo abbiamo perso contro il Barcellona abbiamo pareggiato all'andata ma poi perso al ritorno e siamo usciti dalla competizione come detto siamo usciti a testa alta secondo me però comunque bruciava comunque bruciava, ci andiamo con questa formazione ragazzi per cercare di battere il Torino andiamo in campo sempre sul pezzo e forza Inter quindi ragazzi adesso l'importante è onestamente non farsi prendere dal dispiacere reagire subito perché la situazione in campionato l'avete vista anche voi è molto particolare, ci sono tre squadre a 67 punti quindi chi sbaglia rischia realmente di restare indietro non si può più sbagliare Brozovic vince un contrasto Barella Politano scambia le due attenzioni Nicola Barella entra in aria vince un contrasto anche lui Lazaro può metterle in mezzo morbida non ci arriva Politano ci arriva Bonifazze che la appoggia a Sirigu e la prende con le mani attenzione alla velocità di Gray sensi su di lui il tacco per Meizie ancora Gray e Andanovic compie un vero e proprio miracolo Lazaro Politano per Marcello Brozovic si prova da fuori scusate Sirigu volo sulla sua destra ottimo tiro di Marcello Brozovic si rivediamo qua ottima parata anche di Sirigu Brozovic dalla bandierina eccolo Lukaku che se la viene a prendere colpisce di testa Izzo però attento sul primo palo la mette fuori poi Brozovic la rimette in mezzo arriva Lazaro Bonifazze però la lascia lì e poi Ansaldi riesce a pulire ma la palla rimane tra i piedi di Barella che lotta e subisce fallo dica grande intervento Brozovic finire il po' di prima attenzione per Lukaku davanti a Sirigu la bomba di Lukaku il tiro però è centrale Sirigu si tuffa ma non era troppo complicato come parata purtroppo attenzione ancora Lukaku la palla resta lì dove c'è Skriar che colpisce palla deviata ancora calcio d'angolo ancora Gray Ansaldi passa dal centro dove c'è Gray poi Baselli col destro Andanovic la para e ancora Andanovic che ci tiene a galla Lukaku non chiedetemi assolutamente cosa ci faccia Andika in quella posizione non lo so ma sale ancora Lautaro Lazaro attenzione al centro bellissima la palla per Barella Barella vada a Sirigu aspetta un attimo ma poi riesce a colpire e a battere il portiere del Torino signori siamo avanti 1-0 un po' all'improvviso ragazzi onestamente non me l'aspettavo ero concentrato su Andika ottimo l'inserimento di Barella da mezzalapura ottimo anche l'inserimento di Lazaro raga sono molto concentrato e direi anche vantaggio meritato ragazzi perché comunque il primo tempo tolte un paio di occasioni per il Torino noi siamo stati decisamente più pericolosi Olaina ci indica su di lui senza problemi indica senza problemi da difensore centrale esperto fa ripartire Junior Firpo che può galloppare sulla fascia sinistra attenzione perché Meite è veloce altrettanto prova a prenderlo ma Firpo ha il vantaggio dalla sua parte Firpo può metterla in mezzo il cross non è male esce Sirigu la palla la lascia un attimo lì Melendo la riconquista con un ottimo colpo di tacco col mancino Melendo e ancora Sirigu oggi i due portieri sicuramente protagonisti attenzione a Meite la mette in mezzo colpisce Parigini e Andanovic ci salva non ho capito onestamente come ha fatto a colpire Parigini sia su Brozovic che su De Vrij se non sbaglio attenzione perché al centrocampo non c'è più non si sa come mai Inter sbilanciata Zazza pallone ma no mamma 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 mia ragazzi mamma mia ancora Andanovic che ci salva Telecronaca andata completamente chiaramente sulla parata di Andanovic sul tiro anzi il numero 34 del Torino era in fuorigioco ma siamo andati bene finisce qua signori finisce qua grazie a Samir Andanovic che ci salva questi tre punti sono tutti su in fase offensiva molto imprecisi in fase difensiva molto imprecisi ma sicuramente il migliore in campo è Andanovic non Barella anche se ha segnato il gol Andanovic e quindi vediamo che ha tenuto il passo il Napoli ha tenuto il passo la Juventus invece si è fermata e ha perso due punti continuiamo a fare gli allenamenti ragazzi come potete vedere chi perde punti realmente resta un attimo indietro e quei due punti sono molto importanti attenzione però raga ricordiamoci che comunque ci sarà nel prossimo episodio lo scontro diretto contro il Napoli adesso ce la dobbiamo andare a giocare contro la Spal andiamo in campo signori sempre sul pezzo e forza Inter coppia d'attacco esposito Politano particolare Politano non si è comportato bene contro il Torino però dobbiamo far riposare Lautaro Martinez probabilmente entrerà anche Alexis Sanchez mamma mia che giocata di Nandes triangolo chiuso Nandes Nandes c'è Godin su di lui vediamo se riusciamo a chiuderli ci pensa Andanovic c'era anche Skriniar in suo soccorso l'Inter può ripartire Brozovic accompagna Asamoah sulla faccia sinistra attenzione perché la spalla è sbilanciata Asamoah rientra c'è Agumé attenzione Agumé entra in area Agumé Agumé sta per finire il primo tempo Brozovic cerca spazio il siroli lo ferma e finisce con il primo tempo ragazzi un po' imprecisi anche oggi Senti Francesco Gran cross in mezzo Godin spazza poi Kurtis Tarkovski la lascia lì Brozovic in qualche modo bravissimo Brozovic Asamoah fa ripartire Agumé che lancia Esposito con una palla magica attenzione Sebastiano Esposito la dà portiere Espo Espo col destro la sblocca Espo cioè mi è partito il pad signore sul gol di Esposito mi è partito il pad ma che palla di Agumé bravissimo poi Esposito si ottenere fisicamente e poi dal di lì non può sbagliare pallone alle spalle di Beriscia Sebastiano Esposito inaspettato questo gol ragazzi il pallone sono sincero era per Alexis Sanchez quarto gol da parte di Sebastiano Esposito che comunque il suo lo dà sempre ogni volta che viene chiamato in causa Agumé bella per Sanchez attenzione Sanchez entra in area si mangia i difensori Sanchez una finta Sanchez Sanchez bellissimo per Candreva ragazzi palo di Candreva e poi ci riprova Sanchez ma Felipe in qualche modo copre la porta aveva fatto qualcosa di strepitoso Alexis Sanchez Messino si gira viene incontro Candreva bella la palla per Alexis Sanchez triangolo chiuso ancora Antonio Candreva un altro palo di Candreva ragazzi poverazzo povero Antonio ma finisce qua signori vinciamo anche questa con un po' di difficoltà ma vinciamo l'importante è vincere 1-0 gol di Sebastiano Esposito su assist di Agumet Messino è condito per essere ritornato in squadra ma io ti direi quasi non montarti la testa esatto perché se no mi scassi di nuovo signori la Juventus mantiene il ritmo il Napoli mantiene il ritmo quindi cose invariate solamente la Juventus ha due punti da noi e il Napoli andiamo a giocarci questa partita contro la Roma che proprio una partitella non è e ci andiamo con una formazione anch'essa secondo me molto 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 stanca questa volta gioca proprio D'Ambrosio titolare screener ha assoluto bisogno di recuperare Fabian quest'oggi ce lo portiamo dietro torna Melendo titolare sulla destra Firpo sulla sinistra barella Sensi Brozovic attacco però confessionato da Lukaku e Lautaro Martinez a parte Brozovic che comunque ha tanta resistenza per il resto siamo abbastanza a posto ci portiamo dietro Vessino e ci siamo andiamo in campo signori sempre sul pezzo forza Inter si passa dal centro dove c'è Cristante finta su Brozovic che non ci casca e si riparte con Lautaro Martinez palla per Sensi e Firpo che arriva in suo soccorso può spiegare sulla fascia sinistra Veretuno non lo tiene Firpo davanti al portiere attenzione Firpo Paolo Lopez in calcio d'angolo buona la palla del portiere della Roma attenzione a questa palla in mezzo per Bakambu da parte di Cengiz Sunder salta da solo Firpo non ha chiuso bene Cengiz Sunder e quindi guardate qua ci ho provato per un attimo non sono riuscito a metterlo in difficoltà e poi Bakambu salta realmente isolato e al diciassettesimo la Roma passa in vantaggio attenzione alla Roma che spinge tantissimo sbaglia però Cristante D'Ambrosio sul pezzo guardate la Roma è realmente sempre in pressing Melendo riesce a servirla Lautaro Martinez che cambia gioco dove arriva Firpo Firpo ritorna dal centro Brozovic inserimento adesso di Melendo ci fa col mancino respinge Paolo Lopez e poi Lukaku non è lesto non è veloce ad andare a riprendersi questo pallone peccato raga occasione inter attenzione ancora Lautaro Martinez vince un rimpallo Lukaku difesico per Lautaro Martinez esce Paolo Lopez ancora il portiere poi la difesa della Roma sventa un pericolo pericolosissimo mamma mia ragazzi forse qui meritavamo il pareggio attenzione però restiamo concentrati Melendo prova a prendere in mano la situazione se ne va Melendo superiorità numerica adesso dell'Inter Barella Barella può metterla in mezzo morbida dove arriva il toro no vabbè cosa ha fatto Mario Gaspar ragazzi che chiusura ha fatto Mario Gaspar perdonatemi com'è com'è avvenuta questa chiusura così bravo bravo lui bravo lui bravo lui era una palla perfetta per Lautaro Martinez che aveva già colpito sicuro di insaccarla attenzione qui all'errore della Roma recupera Sensi poi Barella in avanti la gioca Romero Lukaku può avanzare l'attaccante dell'Inter bellissima la palla per Lautaro Martinez che incrocia col mancino questa volta Paolo Lopez non può nulla pareggio Inter con il solito Lautaro Martinez dai che l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta sì 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 pareggio meritatissimo raga meritatissimo niente da dire bravissimo Paolo Lopez fino a questo momento qua però si muove bene l'attaccante dell'Inter bravo Romero Lukaku a servirgli un pallone perfetto attenzione a questa palla per Bakambu indica e poi Bakambu vincendo un contrasto quasi la mette in porta da qui poco furbo indica e abbiamo rischiato parecchio ragazzi la Roma è tutta in avanti ma se io riuscisse a rubargli sto pallone dannato e non sono convinto di riuscirci eh vero è tu devrai indica sbaglia tutto un appoggio semplicissimo attenzione a Undeur la mette in mezzo ma dove sono le marcature e mamma mia D'Ambrosio come in realtà si salva bravissimo D'Ambrosio su Bakambu ragazzi questa è una chiusura spettacolare D'Ambrosio fa salire proprio Lazaro ha spasto davanti a sé vai Valentino c'è Lukaku in ottima posizione Lazaro 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 rientra Lazaro si appoggia a Lukaku che si gira la palla resta lì non tira più e poi l'autor ma ragazzi ma dai ma che tiro è quello di Lukaku che tiro è quel tiro che cos'è quella roba lì se si è girato era da solo che tiro è quello vi dico la verità il pallone di Lazaro però era per il centrocampista corrente attenzione ragazzi però l'autor no non puoi fischiare adesso ragazzi non puoi non puoi non puoi fischiare adesso stavo ripartendo finisce così 1-1 raga bella partita Roma che negli ultimi minuti era proprio all'arrembaggio era proprio all'arrembaggio abbiamo sprecato un paio di occasioni forse troppe ci sta ragazzi era la Roma era la Roma rispetto per i nostri avversari e bene bene c'è una certa giocatore vediamo un attimo gli allenamenti da fare perché Andika come detto lo alleniamo Lazaro è cresciuto vediamo chi sta anche per salire beh vi dico la verità Agumet è un allenamento se lo merita vediamo cosa dice poi Sanchez le chance che mi ha concesso ultimamente hanno significato molto per me spero di ripagare la fiducia apprezzo il tuo impegno proseguiamo vediamo se qualcun altro perde qualcun altro perde punti vediamo un attimo l'aggiornamento della classifica mamma mia siamo contro la Fiorentina adesso la Juventus sì ma il Napoli no il Napoli è avanti di due punti altre chat giocatori guarda Merola pensi solo ai soldi cioè ma di che stiamo a parlare Merola dai sto attraversando un buon periodo di forma ci penserò assolutamente la Torna Martinez comunque giocherà e siamo in casa contro la Fiorentina raga ovviamente questa è una partita da non perdere come quella con il Genoa per presentarsi poi nel prossimo episodio alla sfida diretta contro proprio il Napoli quindi andiamo in campo vediamo un attimo che formazione fare non so se i miei giocatori sono in forma non sono in forma direi di sì direi anche che Barella è cresciuto quindi lo mettiamo in campo e mettiamo in campo anche il buon Fabian Reutz che si rivede come detto signori indica in queste partite comunque titolare vogliamo farlo crescere sono molto teso perché il Napoli continua a vincere in perterrito e si fa fatica si fa fatica si fa fatica perché poi lo dovremo pure sfidare e in questo episodio abbiamo sfidato pure il Torino che incontreremo in finale di Coppa Italia un ottimo Torino tra l'altro ma ci penseremo poi nel prossimo episodio adesso concentrati per questa partita siamo in casa siamo San Siro dobbiamo portarci a casa il match dobbiamo portarci a casa i tre punti con una buona partita Brozovic sale Melendo sulla fascia destra prende il tempo a Matos se ne va proprio Melendo la mette al centro dove arriva Lautaro Martinez non so chi ho colpito onestamente ma la palla si è impennata e Dragowski non è dovuto neanche intervenire nella parata solo nell'uscita Fabio Ruiz passa dalle parti di Melendo i due spagnoli ne parlano molto bene Lautaro col destro a giro la palla resta lì dove c'è Barella si si ancora Nicolò Barella protagonista di questo episodio con qualche gol ottime prestazioni qui il tiro di Lautaro Martinez venire spinto Barella è lì sul pezzo io mi sono impappinato nella telecronaca ma questo è raga non sono un professionista cerco di fare il meglio ma ogni tanto la lingua mi va di traverso molto importante ragazzi passare in vantaggio a inizio partita però attenzione perché la Fiorentina non disdegna la fase offensiva scriverla lascia lì poi Brozovic poi Andanovic la palla è ancora lì attenzione c'è il pareggio della Fiorentina con Tero molto molto bene molto molto bene io non capisco perché quando ci sono i cross io premo tondo per buttarla fuori cos'era quella roba lì secondo voi ragazzi con screen io volevo passarla ma volevo dare un sassone al pallone fuori di testa poi non sono riuscito a coprire su Tero Andanovic era fuori posizione e niente dopo pochi minuti la Fiorentina ci pareggia Brozovic sale Firpo c'è spazio da quel lato non lo segue Chiesa si Firpone si Firpone mettila bene in mezzo arriva Fabian Ruiz e la palla resta all'autoro Martínez deviata da Ceccherini però calcio d'angolo pericoloso Fabian Melendo di prima intenzione per Lukaku ce la deve vedere con Pezzella che interviene sul pallone dai falla un'altra arrotolata Lukaku dai ti vuoi alzare o vuoi fare un'altra arrotolata mamma mia che è siamo amiche ai parco giochi Barella Fabian Ruiz l'autoro Martínez bella questa palla bella questa giocata da parte dell'Inter Junior Firpo però se ne può andare la deve vedere con Ceccherini se ne va Firpo ci prova col destro la palla arriva Lukaku che la mette in porta eh sì fortunati anche in questo rimpallo ragazzi Romelu Lukaku ci porta in vantaggio quanti rimpalli in questi primi gol del Mets rimpallo nel primo gol dell'Inter da parte di Barella rimpallo sul pareggio della Fiorentina rimpallo vincente in questo gol di Lukaku la palla rimane realmente lì rimbalza su Ceccherini e poi Lukaku gli dà una sfiondata Zena Brozovic Barella Autaro Martínez ma come si è girato l'autoro Martínez raga in un fazzoletto la serve poi di nuovo Barella che ci prova col destro avevo avuto l'impressione del gol ragazzi sinceramente il pallone è sceso molto velocemente riguardiamo va largo di un metro un metro eh mica tanto Zena Pulgar se ne va Melendo prova a inseguire stanchissimo Melendo Pulgar isolato ancora Melendo bravissimo eroico veramente aspetta rientro anche degli altri compagni gioca bene però la Fiorentina sali fu Benassi la poggia lì poi indica la palla resta lì e Benassi non approfitta di questo svarione difensivo era molto più semplice da fare questo gol mamma mia c'aveva tutta la porta vuota attendiamo solo di sapere il recupero ragazzi venuti la larga per Terò parte in velocità ce l'avrà in chiusura Terò non sa cosa fare l'Inter si chiude bene per il momento venuti ancora Terò Cristoforo si passa dal centro dove c'è Badell Simeone ci prova a scrignare a chiudere ce la fa con l'aiuto di indica e siamo ancora lì ma l'arbitro fischio alla fine l'Inter batte la Fiorentina San Siro per 2-1 e si mantiene seconda in classifica sempre pensando alla vittoria del Napoli vediamo un attimo se abbiamo i risultati secondo me vittoria strameritata migliore in campo Barella avrei detto anche io Barella sinceramente veramente fondamentale in questo episodio sia per gol sia per quantità veramente tante giocate da parte sua tanta tanta corsa tanta intensità veramente un grande calciatore rimarrà titolare anche il prossimo anno e il Napoli vince ragazzi il Napoli vince a questo punto ci salutiamo ragazzi nel prossimo episodio vedremo Genoa dove dobbiamo assolutamente vincere e poi lo scontro diretto con il Napoli le ultime tre partite di campionato più finali di Coppa Italia contro il Torino ci giochiamo campionato di Coppa Italia nell'ultimo episodio qui abbiamo Lautaro Martinez che ci ringrazia non ti preoccupare prestazione autorevole si è comportato molto bene Lautaro Martinez e niente ragazzi direi che ci possiamo salutare non potete mancare nel prossimo episodio perché ci giochiamo tutto quanto e perché presto ci sarà anche il contest e inizierà anche la nuova stagione io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video ragazzi lasciate un piaccio un commento un consiglio guardate la descrizione per il link utili ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi